Da Whirlpool finalmente ha migliorato il rapporto con il territorio sanitario, oppure ci è sempre stato, oppure no. Whirlpool è una presenza riservata, discreta, però è una presenza forte, molto forte, della quale naturalmente non solo non vogliamo fare a meno, ma la vogliamo rafforzare. Quindi l'occasione di oggi in cui le istituzioni, il territorio si stringono intorno all'azienda e stipulano un patto per un suo ulteriore sviluppo e un suo maggiore radicamento nella nostra realtà, è un fatto molto positivo, è una buona notizia per la città di Siena. La crisi contribuisce a mettere insieme le persone, vero? La crisi è un'ottima occasione, purtroppo durissima occasione per fare squadra e questi sono appuntamenti in cui non si possono mancare. La capacità di compattezza e di coesione è un valore aggiunto che per un territorio vuol dire uscire dalla crisi in condizioni migliori di qualche altro territorio.